se lampeggia vuol dire che sta registrando vai più in la che non si vede bene, mettiti più verso la cucina perchè così non ti riesco a inquadrare in la ti ho detto più in la verso la cucina ecco insomma non si vede bravo bravo ecco la no ecco la fine ecco la fine 8 di pente ok bravi no 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 Batti, Batman, Batman